Il diabete fondamentalmente è una malattia determinata dalla carenza, dalla mancanza di insulina, specialmente il cosiddetto diabete pediatrico o insulino privo o diabete di tipo 1, è proprio quello legato alla mancanza di produzione dell'insulina da parte delle cellule pancreatiche. È una malattia cronica che sta diventando purtroppo una malattia sempre più presente nella nostra società perché dal 1999 al 2010 c'è stato proprio il raddoppiamento di numerosità di pazienti con diabete di tipo 1. Per farvi un esempio, noi seguiamo circa 80 nuove diagnosi l'anno e in Italia ci sono circa 800 nuovi bambini l'anno, dagli 800 ai 1000 bambini l'anno, che si ammalano di diabete. Inoltre esiste anche un altro problema fondamentale che è quello legato invece all'obesità infantile. Si sta sempre di più verificando un incremento dell'obesità infantile nelle nostre popolazioni, in particolare l'Italia, un bambino su 2, specialmente nelle regioni ad alto rischio come la Campania, un bambino su 2 è affetto da sovrappeso e 1 su 4 da obesità. Questo che cosa ha portato? Ha portato alla possibilità di avere il cosiddetto diabete di tipo 2 anche in età pediatrica. Prima il diabete di tipo 2, cioè quello non insulino privo, era un diabete sconosciuto ai pediatri. Adesso invece comincia a essere conosciuto e cominciamo a vedere pazienti con questo tipo di problematica. Questo che cosa porterà? Porterà nel 2030 ad avere nel mondo, in Italia scusate, 5 milioni di pazienti diabetici. E questo sarà un enorme impegno sia sociale che economico. Cioè l'Italia non sarà in grado nel 2030, se non facciamo una prevenzione, nel 2030 non sarà in grado di poter gestire una numerosità di questo tipo, con una patologia cronica di questo tipo. È una malattia definita non comunicabile, cioè non infettiva, quindi non trasmissibile, ma è forse una malattia cronica non comunicabile che ha le maggiori possibilità di determinare decessi nel tempo. L'unico approccio terapeutico è la somministrazione di insulina. L'insulina è un farmaco salvavita in questi casi, associata poi a una buona educazione alla gestione della malattia, e quindi della terapia e all'attività fisica. Questi sono i cardini della terapia del diabete di tipo 1. Noi stiamo parlando di questo in questo momento. Nel tempo ovviamente il bambino cresce. Cresce a maggiori esigenze, attività fisica importante, attività agonistica qualche volta, per cui subentrano tutte quelle che sono le metodiche di tecnologie avanzate per la gestione del diabete, come il monitoraggio continuo della glicemia o come i microinfusori. Poi il bambino diventa adulto e quando diventa adulto ha bisogno di un ambiente diverso rispetto a quello pediatrico. Per cui il problema più importante quando si arriva a un'età cosiddetta adolescenziale tarda è quello della transizione verso il centro dell'adulto. E lì nascono le problematiche. Perché? Perché noi pediatri in un certo senso accudiamo il bambino in tutti quelli che sono i suoi bisogni, mentre il diabetologo dell'adulto è focalizzato soprattutto sulla gestione terapeutica. E quindi il passaggio diventa un passaggio complesso che va accompagnato da noi pediatri e dai diabetologi degli adulti che dovranno acquisire determinate caratteristiche che noi abbiamo impostato.